La farmaceutica si conferma uno dei principali motori dell'economia del territorio abruzzese, stato di cose che viene fuori con chiarezza scorrendo i dati contenuti nell'ultima edizione del report Indicatori Farmaceutici di Farmindustria. In Abruzzo gli addetti di comparto sono quasi 1.400, a cui se ne devono aggiungere anche oltre 1.600 che sono attivi nell'indotto dei fornitori diretti. Il comparto farmaceutico poi, in regione il secondo settore manifatturiero per export, pesa infatti per il 13% sul totale, dati che a livello nazionale pungono l'Abruzzo al settimo posto per controvalore economico delle esportazioni, che nel 2023 sono state pari ad oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro, con una crescita del 49,4% in più rispetto al 2022. Nelle esportazioni in farmaceutica dall'Abruzzo la parte del Leone la fa la provincia dell'Aquila, con un dato che è pari a 997 milioni di euro, una cifra che pone la provincia dell'Aquila al decimo posto su base nazionale. E se questo è il presente del settore della farmaceutica, anche il futuro sembra essere garantito. Infatti in farmaceutica sono fondamentali le attività di ricerca e sviluppo e l'Abruzzo è sesto in Italia per valore degli investimenti relativi a questa specifica voce. 70 milioni di euro sul tavolo nel 2023, che rappresentano ben il 38,2% degli investimenti effettuati dal totale delle imprese abruzzesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.